Tra pochi giorni inizieranno in tutta Italia i saldi invernali 2018. In Liguria sono in programma dal 5 gennaio al 18 febbraio, ma secondo le associazioni dei consumatori in realtà saranno pochi coloro che approfitteranno delle vendite a prezzi scontati, in quanto le famiglie hanno ormai già speso i loro soldi per i regali di Natale. Il Codacons ha infatti evidenziato come anche lo scorso anno i saldi invernali abbiano riscosso uno scarsissimo successo. Per questo, secondo i rappresentanti dei consumatori, sarebbe meglio puntare su vendite straordinarie prima delle feste come il Black Friday di origine americana nel mese di novembre. Secondo le stime di FederConsumatori, l'anno scorso solo il 39% delle famiglie italiane avrebbe fatto acquisti durante la finestra dei saldi invernali, spendendo peraltro meno di 180 euro a famiglia. In ogni caso, sarà opportuno prestare attenzione alle offerte, ricordando che i commercianti hanno l'obbligo di dividere la merce in saldo da quella posta in vendita normalmente, indicando anche il prezzo originario, il prezzo in saldo e la percentuale di sconto. La legge inoltre prevede che i saldi non riguardino tutti i prodotti, ma solo quelli di carattere stagionale e quelli suscettibili di notevole depreciamento in quanto sono fortemente legati alla moda.